Portobiano è nel calendario da due anni ed è stato il seguito dell'evento classico di Maggiora ed ha saputo riprenderne gli aspetti organizzativi e di pubblico, dato che entrambi sono ad un livello altissimo e il seguito di pubblico è fantastico. Portobiano è differente anche perché la gente che viene e si ferma davanti alla tenda, parecchi ti conoscono, sanno chi sei, già dai sabato mattina alle 7 mettono Pavarotti, nessun dorma e te ti svegli e già è un'armonia diversa, capisci che sei in Italia e tutto è molto più bello. Il tifo del pubblico italiano si sente molto di più e soprattutto richiede molta più concentrazione perché è facile distrarsi un po'. Portobiano è molto bello perché mi piace il terzo, è molto pesante e è qualcosa che mi piace molto di ride, per sicuramente ride in Italia e ride contro il mondo e in fronte di un'attività di casa, ci dà molta motivazione e a volte c'è pressione ma è un'atmosfera sempre un honno poter correre in Italia, già che è un'esperienza totalmente differente da altre piste dove c'è meno pubblico, sempre mi piace correre in piste come questa. Il calore che sento anche il pubblico nei miei confronti mi dà ancora più forza, riesco grazie alla mia passione che ormai va avanti da anni a trasmettere quelle che sono le mie emozioni che avevo da pilota e ora ho da speaker il mio lavoro, cerco di farlo nel migliore dei modi con la passione che riesco a trasmettere, mi dicono che ci riesco e questo mi fa piacere naturalmente.